Avete sentito l'ultima novità? No. No? Ve le dico io. Pare che la Germania voglia fare la guerra all'Inghilterra e alla Francia. Come? Oh, no, no, no. In questi ultimi tempi non si parla che di guerre. Che ne dice il capo? Io penso che le guerre sono necessarie per il benessere dei popoli. In che senso? È chiarissimo. Certi uomini politici di certe nazioni appena vanno al potere, per rendersi benemeriti della loro patria, cominciano a preoccuparsi delle condizioni sociali e finanziarie del loro paese. E dicono, le condizioni del nostro popolo sono disagiate, c'è disoccupazione, c'è miseria, c'è fame. E allora cosa fanno? Si riuniscono in 4 o 5 e sempre per il benessere dei loro popoli decidono di fare la guerra. E se ne perdono, poveri. Sciocchezze, sciocchezze. Grazie. Un amico mio, sapete come diceva? Pinzerlacchere. Ci sono altri uomini politici nuovi che preoccupati per il disagio della guerra perduta, sapete cosa fanno? Si riuniscono ancora una volta, in 4 o 5, e sempre per il benessere del popolo decidono di fare un'altra guerra. Speriamo che non tocchi a noi. Amico mio, a noi questa volta non ci tocca. Se mai ci sarà il conflitto, noi resteremo fuori. Saremo neutrali, faremo un sacco di soldi. Neutrali come la Svizzera. Amici miei, noi siamo furbi. Amici, e poi la Francia, l'Inghilterra e la Germania, a noi ci vogliono un sacco di bene. Date retta a me, ve lo dice il vostro capostazione.